Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. Su Netflix è disponibile The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie antologica iniziata con The Haunting of Hill House. E preparatevi, Bly Manor non c'entra una mazza con Hill House, d'altronde è una serie antologica. Ho appena finito di vedere i nove episodi che compongono Bly Manor e, come vi possono testimoniare i miei occhi gonfi, mi ha commosso. Gli ultimi minuti dell'ultimo episodio veramente mi sono commossa tantissimo e quindi sì, vi posso dire che mi è decisamente piaciuta. Non è una serie perfetta? Assolutamente no, tuttavia giunge al punto, sì, farvi commuovere e toccarvi l'animo decisamente. Ma scoprite quanto in questa recensione rigorosamente senza spoiler. Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare, che è sempre una cosa importantissima. E se vi piace la maglietta che sto indossando ora, sapete che esiste Pampling, sito di magliette e articoli nerd? Bene, trovate il link al sito in descrizione a questo video. E se scriverete il mio codice personale COSMO, avrete diritto al 20% di sconto su tutti gli articoli presenti sul sito e per ogni vostro acquisto da qui all'eternità. Una figata vera? Sì, come Bly Manor e questo unicorno. Quindi, ciancio alle bande e sigla! In primis avevo intenzione di fare una recensione, senza spoiler, ok, ma molto sentimentale, molto emotiva, di The Haunting of Bly Manor, che ora poi chiamiamo Bly Manor, perché altrimenti questa recensione durerà 45 minuti. Ma poi ho pensato, no, ci vuole anche un po' di analisi fredda e oggettiva, a cominciare dalle differenze tra Hill House e Bly Manor. Perché, ve l'ho già detto, non c'entrano una mazza l'una con l'altra, pur essendo due stagioni di un unico progetto antologico. A cominciare dal fatto che Bly Manor non è un horror. Quindi, se state cercando una serie TV o un prodotto di intrattenimento in generale che vi faccia saltare sulla sedia, Bly Manor non fa decisamente per voi. Non ci sono jumpscare, non ci sono atmosfere horror devaura e quindi no. Piuttosto riguardatevi un'altra volta Hill House. Tuttavia, questo non vuol dire che Bly Manor sia un prodotto inferiore rispetto alla stagione precedente di The Haunting. Certo, per quanto la maggior parte delle caratteristiche e dell'approccio anche al racconto, della regia, del montaggio, siano molto molto diversi rispetto a Hill House, Bly Manor mantiene alcuni elementi e soprattutto alcune tematiche che già ci aveva introdotto Hill House, a cominciare dalla casa infestata. Perché, come ampiamente dichiarato da Hill House, il filo conduttore tra tutte le stagioni che comporranno questa serie antologica sarà appunto la presenza di una casa infestata, cosa che a me riempie effettivamente di gioia perché è la tipologia di horror che adoro di più, quella con le case infestate e quindi Giulia, bambina felice. E quindi questa casa che è viva, un personaggio addirittura all'interno della storia, non soltanto scenografia e basta. Un luogo, sì, ma al di fuori quasi dello spazio e del tempo, insomma, una dimensione totalmente a sé stante. Poi, chiaramente, c'è il lutto, l'elaborazione del lutto o l'impossibilità di elaborare il lutto. L'abbiamo già visto in Hill House e anche in Bly Manor è una costante importantissima. Ma se ci pensate, quante storie che fanno paura partono dall'elaborazione o dalla mancata elaborazione di un lutto? Cosa che in effetti ha super senso, perché anche nelle nostre esistenze, che non sono decisamente parte di un prodotto di intrattenimento, doversi trovare ad affrontare un lutto, soprattutto di una persona cara, e probabilmente uno degli aspetti più terrificanti che si possano vivere nella propria vita. E quindi Lly Manor, proprio come Hill House, emoziona tantissimo da questo punto di vista. C'è una fortissima connessione empatica con i personaggi e con le loro vicende luttuose, purtroppo, nel corso dei nove episodi che compongono questa seconda stagione della serie antologica. E poi torna all'approfondimento delle relazioni umane. E se in Hill House c'erano i rapporti familiari, l'amore tra fratelli e sorelle, qua invece c'è proprio l'amore di coppia. Infatti vediamo tante modalità di amore differenti, da quello malato a quello romantico a quello tormentato a quello tragico. Insomma, è antologica a Bly Manor anche dal punto di vista del racconto dell'amore. Ma a parte la paura del dover affrontare la perdita di un proprio caro, la paura di un luogo soffocante e la paura di amare o di essere finiti in una relazione tossica, di paura, proprio da horror della serie, mamma mia che sghitto, non ce n'è. Quindi veramente preparatevi psicologicamente. Preparatevi psicologicamente a un prodotto molto diverso rispetto a quello che ci saremmo aspettati, ma anche rispetto alla tipologia di serie che vengono presentate sul mercato ultimamente. È decisamente ricercata, elegante e con i suoi continui richiami al passato, da un punto di vista di tipologia di narrazione, da un punto di vista di struttura del racconto, è originale e nuova in un certo senso. Ha da notare che con il house condivide ancora la partizione del racconto, ovvero ogni episodio è dedicato al punto di vista di un personaggio, cosa che avevo adorato in Il House e continua ad adorare anche in Bly Manor, veramente. Trovo che sia un modo di raccontare la storia super organizzato e super consapevole che quindi mi fa scattare un entusiasmo veramente wild. Ma dicevo, i tanti richiami al passato di Bly Manor. Ebbene sì, perché di Haunting of Bly Manor sapete che cosa sembra, o almeno è sembrata a me, una serie tv vittoriana. Pur non essendo un adattamento fedele del racconto di Henry James, Il Giro di Vite, The Turn of the Screw, pietra miliare dei racconti di fantasmi gotici, è riuscita a portare Bly Manor, l'atmosfera che si respira all'interno del racconto dell'autore. Sì, quell'atmosfera gotica, quella atmosfera profondamente vittoriana. Pur essendo ambientata negli anni 80 del 900, badate bene, effettivamente il gotico, più che far paura, ti riesce a creare quell'inquietudine, quell'atmosfera, quella suggestione che ti porta appunto a essere turbato, non ad avere paura. Puoi provare orrore, certo, ma non paura, che sono due cose molto molto diverse. Perché l'orrore lo puoi provare anche per quanto un personaggio possa essere depravato, depravato nel senso di malvagio, di cattivo con gli altri esseri umani all'interno della sua vita. Insomma, non ci deve essere per forza un fantasma che ti fa bubu, sono qui per farti provare orrore. E la paura appunto è decisamente un'altra cosa, cosa che Bly Manor non ti fa assolutamente provare, ma invece orrore sì, l'orrore tipico del gotico. E quindi mi è piaciuta tantissimo questa operazione di fondere queste atmosfere così appartenenti a un genere letterario e a un'epoca storica così differente rispetto alla nostra e così differente rispetto a quella che viene raccontata con costumi, abitudini, pettinature addirittura tipiche degli anni 80 del 900. e l'ho trovata una rielaborazione originale di un testo, anzi di un contesto preesistente. Quindi decisamente Bly Manor da questo punto di vista due pollici in su. Certo, poi ci sono dei momenti cringe, ci sono delle soluzioni alquanto prevedibili già dall'inizio, perché questa struttura estremamente intricata del racconto a volte più, diciamo, complichi la narrazione della storia più ti puoi perdere dei passaggi in giro e per far sì che comunque il pubblico generalista riesca a comprenderlo a volte, diciamo, che metti delle semplificazioni che possano soddisfare la gran parte delle tipologie di spettatori a prescindere dalla sensibilità che possiedono nell'intuire i vari livelli di lettura. Una complicazione un po' troppo cervellotica e non sempre utilissima, quella in Bly Manor, è purtroppo sì, secondo me. Già in Hill House avevamo sperimentato la narrazione su due livelli temporali differenti, quello dei ragazzi adulti e dei ragazzi bambini e già lì comunque dovevi stare bene attento allo svolgersi della storia. Invece in Bly Manor i piani narrativi e i piani dell'esistenza, capirete quando vedrete la serie che cosa intendo, sono veramente una fraccata, sono una fraccata ed è anche un po' metafisica, ecco, la storia di Bly Manor, perciò è possibile che ad un certo punto vi perdiate in una narrazione, appunto, vi dicevo, secondo me inutilmente complicata in certi punti. Tuttavia il fatto che abbia portato queste atmosfere gotiche all'interno degli anni 80 del 900, il fatto che appunto mi è sembrato di respirare aria romantica, ma romantica nel senso del romanticismo, dello sturm und rang dell'Europa, del nord, il fatto di aver accostato da un certo momento della narrazione in poi Bly Manor a Cime Tempestose, mi ha decisamente conquistato, perché saper raccontare le storie d'amore con quell'inquietudine, con quegli aspetti sovrannaturali, a volte suggeriti o a volte no, che hanno tipicamente le storie d'amore raccontate nei tempi vittoriani, veramente mi ha conquistato alla grande. Considerate che Cime Tempestose è uno dei miei libri preferiti in assoluto, perciò questo paragone non è fatto a cuor leggero, è super consapevole. E infatti, secondo me, Bly Manor va applaudito a prescindere dal fatto che vi sia piaciuto o meno perché è un'operazione coraggiosa. In che modo, vi starete chiedendo voi? Beh, allora, The Haunting of Hill House è stato applaudito da tutti come un grandissimo esempio di serialità televisiva horror, ok, che doveva essere una serie antologica, certo, tuttavia non era così scontato, anzi, non era duveroso, anzi, era rischioso far seguire a Hill House una stagione molto diversa, come molto diversa da Hill House e Bly Manor, come vi dicevo in precedenza, soprattutto dal punto di vista dell'elemento orrorifico. Perché quante serie antologiche esistono nel panorama seriale attuale? Beh, un bel numero. Tuttavia si riconosce sempre quella cifra da una stagione all'altra, pur essendoci attori diversi, pur essendo ambientate in epoche e in tempi diversi, storie differenti, problematiche differenti, tuttavia c'è quella cifra, c'è quella firma della serie che anche se cambia tutto, in realtà non cambia niente, no? Invece, se due anni fa vedendo Hill House vi eravate fatti un'impressione di come sarebbe potuta progredire questa operazione antologica, boom, tutti i punti di riferimento che avevate sono stati tranquillamente scardinati con questa nuova stagione con Bly Manor, che appunto è super rischioso e super coraggioso, perché se qualcosa funziona, piace al pubblico, viene applaudito dalla critica, Perché cambiare? Eh, perché probabilmente c'è una tale necessità di esprimersi artisticamente che il creatore di Hill House e Bly Manor, Mike Flanagan, ha deciso di sbatterse nella ciolla e di fare quello che voleva lui e di non ricalcare il successo già ottenuto con Hill House. Ha voluto sperimentare e secondo me ogni esperimento va sempre applaudito, a prescindere dal risultato che poi si ottiene. Beh, Bly Manor, per quanto abbia dei difetti, ma d'altronde sono pochissime le serie tv che non ce l'hanno, i prodotti di intrattenimento in generale che non abbiano difetti, è innegabilmente un gran prodotto, assolutamente sì. La presa emotiva che comincia ad avere dall'ottavo episodio in poi, tra l'altro ottavo episodio che vedrete è piuttosto differente rispetto agli altri e vi piacerà da morire, a me ha proprio conquistato alla grande. Ecco, la presa emotiva che dicevo che avrà da un certo episodio in poi sarà tale che vi lascerà un fantastico ricordo, almeno così sarà per me, perché già mi immagino fra qualche anno quando qualcuno mi parlerà ti ricordi, Bly Manor, che figata? Io sospirerò e dirò, ah sì, quanto mi è piaciuta quella serie, dimenticando le sbavature, le cringiate o le robe prevedibili che ci sono all'interno della serie, perché appunto mi lascerà quel sapore dolce amaro che mi ha lasciato cime tempestose, che mi ha lasciato Jane Eyre, che mi hanno lasciato i capolavori letterari della fine dell'Ottocento. E quando in una serie tv si nota così tanta letterarietà, quando è così tanto connessa a un panorama proprio di un altro medium espressivo, veramente... che vi posso dire? A me Bly Manor è piaciuta tantissimo, in quanto serie tv ma più che altro in quanto portatrice di riferimenti non propri al panorama seriale, appunto. E quindi quando ci sono queste fusioni così ben riuscite, queste operazioni così rischiose e così affascinanti, non posso che arrendermi e battere le mani. E quindi sì, The Haunting of Bly Manor mi è piaciuta, mi è piaciuta decisamente tanto, come testimoniano anche le mie lacrime di commozione, e considerate che io sono una che si commuove solo quando ci sono gli animali, soprattutto quando ci sono i cani. Le vicende degli esseri umani e in particolar modo le storie d'amore è difficile che mi tocchino il cuore, sempre che non ci sia quell'inquietudine, quell'orrore, quella tragicità che è propria delle storie d'amore e della fine dell'Ottocento vedi Cime Tempestose, vedi Jane Eyre e vedi Bly Manor. Insomma, essere messo assieme ai capolavori delle sorelle Bronti non è decisamente male, eppure Bly Manor ci sta di brutto. Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto a tutte e tre le sorelle Bronti, me l'hanno detto prima nell'orecchio, quindi credeteci, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento e iscrivervi al canale YouTube di Cosmofaliders attivando anche la campanella delle notifiche su in alto che è sempre una cosa importantissima, altrimenti vi leggerò tutto Cime Tempestose, ma in inglese.